GF VIP, sarebbero previsti sei ingressi come da Ivana Mrazova a Martina Nazioni. Sarebbero previsti sei nuovi ingressi all'interno della casa del grande fratello VIP7 nel corso delle prossime puntate di questa edizione. A lanciare l'indiscrezione sul reality show condotto da Alfonso Signorini è stato Alessandro Rosica. Chi sui social ha svelato anche i nomi di coloro che potrebbero varcare la soglia della Porta Rossa di Cinecittà, nelle vesti di ospiti. Tra questi spicca il nome di Ivana Mrazova, nota al pubblico delle reality show per la sua partecipazione a una delle passate edizioni del GF VIP, dove ha avuto modo di innamorarsi di Luca Onestini. Secondo le ultime indiscrezioni sul GF VIP, diffuse in rete da Alessandro Rosica, potrebbero essere previsti sei nuovi ingressi all'interno della casa più spiata d'Italia, ma nelle vesti di ospiti. Una delle new entry potrebbe essere Martina Nasoni, vincitrice di una delle ultime edizioni NIP del reality show condotto da Barbara D'Urso. A quell'edizione prese parte anche Daniele Dal Moro, che quest'anno è tornato nella casa del GF VIP come concorrente ufficiale. Ai tempi della sua prima partecipazione al reality show, nacque una storia d'amore con Martina Nasoni, poi naufragata nei mesi successivi la fine del programma. Tuttavia Daniele potrebbe non essere l'unico a ritrovarsi una sua ex all'interno della casa. Dato che tra le new entry spiccherebbe anche il nome di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. Le porte della casa del GF VIP potrebbero accogliere anche Matteo Diamante, ex naufrago dell'Isola dei famosi. Noto anche per la sua relazione con Nikita, una delle concorrenti più amate di questa settima edizione delle reality show Mediaset. Nella lista dei sei nuovi papabili ospiti di questa edizione spicca anche il nome di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. In attesa di scoprire se ci saranno per davvero questi sei nuovi ingressi nel corso delle prossime puntate serali del GF VIP. È ufficiale il cambio in programmazione a partire dal mese di febbraio. L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà alla doppia puntata serale, è confermata la diretta del lunedì. Alla quale si aggiungerà quella del giovedì a partire dal 9 febbraio. Di conseguenza il GF VIP si ritroverà a dover sfidare anche il Festival di Sanremo 2023 in onda nella settimana che va dal 7 all'11 febbraio nel primo time di Rai 1. Come se la caverà alle reality show in questa sfida inedita? Grazie. 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 Grazie.